Io ho avuto il sistema, già perché è bella sicura mi sento concernato, sono un anciano brigionero, si sa che sia sortito poco tempo va, ma c'è una cosa che è che il brigio, forse non si viene da mica a luce, non si viene da mica quando uno esorte, è tutto un sistema, tutta una meccanica che continua a perseguire il brigionero proprio dopo la sortida, e è bella che il discorso che consiste a palizzare e a riguasare, e numerose misure che oggi è messa in ballo contro l'anziano brigionero e politico in Gorsica, di qualcosa che sicuramente è un po' che sostiene. E dopo c'è tutto un combattio, un generale arredo, di che non piantiamo mica di pensare che non pensiamo sortendo in Gorsica, continuiamo di guardare per una certa visione di Gorsica, per fare che il Zobobu lo possesse riconosciuto, e che le api mesi dicono che non si può fare, non si può dare, e forse questo messaggio qui, che oggi è stato affianco all'organizzatore di questa manifestazione.